L'ex villa di un appartenente alla mafia foggiana è pronta ad ospitare una comunità alloggio per disabili, intitolata Giovanni Panunzio, l'imprenditore assassinato il 6 novembre del 92, Natale con festa di presentazione. Il consorzio Opus qualche settimana fa ha ricevuto dal comune di Foggia formale assegnazione dei locali in posta conca in qualità di ente gestore per il tramite della sua consorziata San Riccardo Pampuri della struttura destinata a comunità alloggio dopo di noi per diversamente abili e domani alle seggi sarà celebrata sul luogo una messa di Natale presieduta da Don Massimo Cappellari alla presenza del commissario prefettizio Marilisa Magno. Seguirà un momento di convivialità per lo scambio degli auguri in vista delle festività natalizie. L'occasione rappresenta un momento di presentazione del servizio e di conoscenza di spazi e luogo. Grazie.